Musica Salve amici di Youtube e benvenuti in questo nuovo episodio delle progetti Allora, in questo episodio dovrei parlare di un po' di cose Allora, per tutti quelli che avevo scritto sia su Skype sia su Youtube Su Youtube forse non ho avvertito quasi nessuno Ma comunque vi avverto in questo video Sto facendo un progetto In poche parole, quando è possibile, diciamo Vi dirò in questo video, in una certa ora, questo progetto a che ora si fa Chi vuole partecipare si deve connettere su Skype In poche parole, le persone che non mi hanno ancora aggiunto su Skype mi aggiungino Mi aggiungi Vabbè, aggiungetemi su Skype, fate prima Così, però se volete partecipare a questo progetto Cioè, vabbè, potete aggiungermi anche se volete parlare con me, ad esempio Però Non l'avete fatto mai di aggiungermi, quindi in teoria non so Vabbè, di solito la gente non mi aggiunge mai su Skype Direttamente mi scrive su Youtube Però se volete aggiungermi su Skype mi fa piacere parlare con altre persone Anche se non vogliono partecipare a questo progetto Appunto Iniziamo prima dalla prima fase Avere il gioco o non avere il gioco Allora Questo gioco Su Steam Costa 6 euro e qualcosa Che si chiama Garry's Mod Molti lo conosceranno Molti hanno detto che è un gioco epico Molti hanno detto che invece fa schifo Io dico che è un gioco bello Ma per il mio genere Nel senso che il mio genere è horror Quindi a me se Garry's Mod fa delle mod tipo Slenderman Io ne vado matto O altrimenti se fa delle mappe tipo Pro Hunt Che sarebbe quel gioco dove tu ti devi nascondere in poche parole Allora Vi darò un link Che in pratica vi dovete registrare O tramite Facebook O vi dovete registrare normalmente Dove il gioco è super scontato Diciamo che su Steam costa 6 o 7 euro Invece sul sito Che vi darò Costerà 3 dollari Che in teoria dovrebbero essere 5 dollari Quindi è scontato di 2 euro o 3 euro Anni circa Per chi volesse partecipare a questo progetto Non è un obbligo Comprare questo gioco Con me sicuramente con questo gioco Non avete buttato soldi inutili Perché in pratica dovrò farci una serie Molto lunga anche Sarà una serie tra 40 o 50 episodi Sempre con persone diverse Perché vi dico questo progetto? Perché questo progetto lo voglio iniziare Principalmente per sponsorizzare canali In pratica chi vorrà partecipare a questo progetto Verrà messo anche In descrizione E chi vuole Passarmi anche la sua registrazione Io poi lo monto E metto 4 prospettive Di 4 persone 8 persone Quante saremo? Se siamo 8 persone Nella mappa Metterò Se tutti gli 8 vogliono registrare Appunto Cioè vabbè Non compreso io Siamo quindi 7 persone Io metterò sia il mio video Sia gli altri 6 o 7 video Che ci sono Che chi ha registrato quel video appunto Così a meno da mettere poi L'icone Dei vari canali E far vedere nel video Che ci sono sia io Che altre persone Questo progetto in pratica Faremo sia ProHunt Che Slenderman Quindi chi vuole partecipare Poi Mi scrivi tipo Parteci Sotto nei commenti O mi dica Io ci sono Anche io ci sono Magari tutti i giorni O magari ci sono Indeterminati giorni Della settimana appunto Così a meno da Chi è più disponibile Si deve adattare A quelli meno disponibili Diciamo Cioè se uno tipo dice Ci sono solo il martedì Alle 18 E tutti quanti invece Ci sono tutti i giorni Allora ci dobbiamo adattare A quello che c'è Soltanto alle 18 O altrimenti Se la maggioranza C'ha gli orari Tutti così A random Si vedrà Come risolverlo Io non so Se molte persone Accetteranno Una cosa del genere Del tipo Eh ma Se una persona non può Perché noi 7 Ci dobbiamo Adattare a lui Non lo so Io mi adatterei Anche a una persona Che magari non può Io mi posso adattare A quella persona Non è nessun problema Ma gli altri Magari non Sono d'accordo con me Comunque Tornando al discorso C'è un link In descrizione Qua sotto Che vi metterò Dove voi potete acquistarlo A poco prezzo Chi vuole partecipare Non è obbligatorio Comprarlo Cioè non è che dovete Comprarlo per forza Perché Volete fare la serie Con me Magari lo volete Acquistare Anche per Per fatti vostri Diciamo O Magari Non siete obbligati A acquistarlo Perché volete Fare una serie Con me Cioè non è un obbligo Poi Se Chi vuole partecipare Mi scriva Io ci sono Magari Voglio partecipare A questo progetto Che poi è una cosa Che sto facendo Anche per voi Cioè nel senso Che vi sto Aiutando a fare Un po' di iscritti Perché Mentre noi facciamo Il video Ci sono anche i canali In descrizione Poi se voi volete Farlo anche voi Nel vostro E mettere Gli stessi link Che ho messo io In descrizione Potete farlo Così almeno Facciamo un po' di Rotation Come si può dire Quindi Questo progetto Si chiama Gerizmod Il gioco Lo trovate in descrizione Se volete acquistarlo Perché Craccarlo Ragazzi Non ha senso Cioè nel senso che Non ho provato Anche tipo Con un mio amico Che non se lo poteva permettere Io ce l'avevo originale Abbiamo provato A giocare insieme Fa però Con alcune mappe Nel senso che Tipo quelle default O quelle mappe lì Funziona O anche Prop hunt Che funziona Però La maggior parte Delle Tipo Slenderman Non funziona Cioè lui Per esempio Alcune mappe Le vedeva tipo Di mattina Io le vedevo di notte Perché erano già Fizzate Per Nel gioco originale Quindi Come vi sto dicendo Chi vuole partecipare A me farebbe piacere Tipo Che ne so William Cioè Desterita The Darkness Gate O altre persone Che hanno Slenderman Boxi Cioè che hanno Gary's Mod Vi dico Vogliono partecipare A questo progetto Vi metto già le regole In teoria Non sono regole Sono Così almeno Nessuno mi fa la domanda Del tipo Ma non ci avevi mai detto Che dovevamo registrare Ecco allora Regola numero uno Chi vuole Può registrare Il gioco Mentre stiamo facendo il video Se poi lui registra Diciamo Se mi può passare Anche a me il video Così almeno Lo metto anche Montato nel mio Così almeno Si vedono tante prospettive Una diversa Cioè non solo La mia grande 1280 Ma si vedono anche In quadrature di altre persone Punto secondo Chi vuole registrare Cioè non è obbligatorio Cioè chi non vuole registrare Non è obbligato Però comunque nel mio video Ci sarà comunque quella persona Perché si sentirà la voce Chi invece vuole registrare Non è obbligatorio Usare la webcam Cioè se voi per esempio Volete registrare un video Con me Mi potete passare anche il video Però anche senza la webcam Cioè se volete metterla È meglio Perché così almeno Quando lo metto Sul Sul mio video In pratica Capisco Chi è Capiscono anche quelli Che guardano il video La persona Nella webcam Chi è Se invece uno mette Soltanto il gioco Senza la webcam La persona non capisce Quindi dovrò mettere Tipo l'icona del canale Appunto Per chi vuole registrare Sia senza webcam Che ecco la webcam Tipo Slenderman Che ha i suoni Che ha i suoni Quando Slenderman Si avvicina Fa gli effetti Dei suoni Fa Non si sentono Perché ho cancellato L'audio Perché era attaccato Insieme a quella di Skype Quindi È meglio solamente Se ho registrato Solo l'audio O se riuscite A dividermi Due audi E mettermi Quella di Skype Me la mandate Come secondo Così almeno Mi regolo Se coincide bene Con il mio video E poi lo cancello L'audio di Skype E metto solo L'audio Della persona Del video Mi può che parlare Dei suoni Del video Appunto Quindi ragazzi Per questo video È tutto Vi ho detto tutto Appunto Quindi Chi vuole partecipare Mi scriva Che partecipa Chi vuole registrare Può farlo Sia con webcam O senza webcam È Importante Che Se registrate Mi date Una copia Diciamo Del video Cos'almeno Se siamo Qui poi in 4 Che vogliamo registrare E altri 4 No In quei 4 persone Che vogliono registrare Li metto nel mio video E li faccio la prospettiva Così vedranno 4 persone diverse Nel video E niente ragazzi Quindi Spero che sarete In tanti A partecipare a questo video Perché soprattutto È per sponsorizzare Perché ogni volta Che faremo questo video Ci saranno i canali In descrizione Così la gente Potrà Iscriversi Al vostro canale Se gli piace Il vostro canale Appunto E niente Quindi Per questo video è tutto Ragazzi Spero che vi sia piaciuto Questo video Anche per voi Così almeno Faccio qualcosa di innovativo Visto che Abe La seconda parte Non Come si dice Il secondo gioco di Abe Non lo farò ancora Voglio fare qualcosa di diverso Tipo Get his mod L'ho pagato Vorrei farci qualcosa Anche perché Se no Non ha senso Comprare un gioco Che poi non fai Poi Amnesia L'ultimo episodio Avevo già fatto il video Spiegazione Dell'altro episodio Che manca l'ultimo episodio E quello abbiamo finito Mancheranno solo L'ultimo episodio Di Journey to Silius Che quello Vabbè Devo fare il gameplay Quando riesco a finire lo stage E niente ragazzi Quindi per questo video è tutto Un saluto da Bayon Community Ciao a tutti ragazzi